Pediatria e infezione delle viurinarie Le infezioni delle viurinarie sono un problema clinico abbastanza importante e frequente. L'acudianesi risulta essere talvolta difficoltosa perché si manifesta nella prima infanzia e spesso solo con la febbre. Incidenza soprattutto nelle femmine per motivi anatomici perché c'è una ridotta lunghezza delle viurinarie e la vicinanza della pagina al canale intestinale. Di solito si manifesta una bambina ogni 20-30, in particolare poi nelle femmine sopra i 3 anni e nei maschi un bambino ogni 100 in particolare intorno al primo anno di vita. Questo perché nelle femmine magari spesso si infettano con una scarsa igiene nel momento in cui non c'è più l'uso del pannolino mentre nei maschi anche se c'è questa infezione ovviamente perché c'è il contatto del prepuzio col pannolino ovviamente comunque i motivi per cui si manifestano più nelle femmine è proprio più strettamente anatomico se poi c'è una scarsa igiene la situazione viene a manifestarsi più facilmente. dal punto di vista delle cause abbiamo batteri come quelli per esempio che normalmente colonizzano il colono, quindi scherichia coli, chlebiseglia, proteus che danno un rischio di insufficienza renale soprattutto se ci sono delle infezioni ripetute. La classificazione in base alla sete è cistita acuta, pielonefrite acuta, batteriuria sintomatica. La cistita acuta è un'infezione delle vie urinarie basse a cui è correlato un minore rischio rispetto alla pielonefrite di un danno al rene e in particolare queste infezioni sono della vescica con esame dell'urine significativo e esame anche colturale positivo non ci sono solitamente dei sintomi sistemici come febbre oppure non ci sono altri sintomi sistemici e nemmeno danno renale a volte può essere presente al limite una febbricola però clinicamente si manifesta con disuria, tenesimo vescicale, dolore sovrapubico incontinenza di urine e maleodoranti. Per quanto riguarda invece la pielonefrite acuta è un'infezione delle vie alte che interessa il parecchima renale in particolare c'è quindi un maggior rischio di danno renale e ha manifestazioni sistemiche anche qui gli esamele urine saranno significative e la cultura sarà positiva dal punto di vista clinico troveremo in questo caso a causa di un stiramento della capsula renale un dolore all'addome o al fianco malessere, febbre, nausea, vomito, ittero, diarrea poi ci sono dei sintomi specifici come l'inappetenza l'irritabilità alcaloponderale anche spesso presente nel neonato e ci accorgiamo che anche questo va a rifiutare per esempio la poppata nelle diagnosi del sanguinario spesso valutiamo per esempio i nitriti, l'indice di infezione ad esempio molto importanti e poi spesso i nitriti sono anche molto specifici per alcuni tipi di batteri come per esempio il proteus e poi ovviamente facciamo anche e intagliamo leucociti abbiamo leucocituria, globuli bianchi sopra 500 per campo micro e maturia, cilindruria e l'esame batteroscopico importante per i valsi positivi ovviamente si fa anche un urinocultura in modo da avere più specificità e sensibilità negli esami quindi in particolare l'urinocultura deve essere positiva quindi positiva meglio per un'infezione delle viurinari nel caso in cui abbiamo due urinoculture positive con un antibiogramma sovrapponibile oppure una positiva con esame dell'urin significativo ovviamente deve essere lo stesso germe perché se abbiamo più patogene allora si parla di contaminazione più che di infezioni delle viurinarie quindi è importante soprattutto poi valutare ovviamente segni specifici nei bambini piccoli nei neonati e poi se non trattata correttamente possiamo avere le scarse cicatriziali quindi renali che prendono il nome anche di pielonefrite cicatriziale che danno un danno renale e in particolare compromettono la funzionalità renale alterando il microcircolo e danno l'ipertensione per l'alterazione della renina angiotensina e aldosterone nefropatia da reflusso correlata spesso anche esinano l'insufficienza renale per le infezioni ripetute anche qui siccome si trattano condizioni croniche come in tutte le condizioni croniche per l'aumentato catabolismo ci può essere liposomia poi possono complicare soprattutto con gli ascessi anche se non trattate queste condizioni e gli ascessi chiedono una rimozione chirurgica spesso possono essere per i renali o intrarenali abbiamo poi la batteriuria sintomatica che invece è caratterizzata da una situazione più lieve infatti benigna con una manifestazione soprattutto nelle femmine e spesso può essere trattata semplicemente con un integratore una dieta che aiutano a ridurre la carica batterica è asintomatica e non esita in una problematica renale come le cestiti o come ovviamente le pieronefriti inoltre abbiamo altre classificazioni dell'IV in particolare in base alla modalità di presentazione possiamo avere un'infezione acuta se c'è un primo episodio o un'infezione ricorrente nel caso in cui abbiamo o un'infezione acuta non risolta quindi non risponde al trattamento oppure un'infezione acuta persistente quindi abbiamo un po' risolto il quadro acuto ma non il quadro infettivo infezione recidivante invece caratterizzato da una remissione alternata all'infezione ovviamente la terapia di prima scelta sarà l'antibiotico poi se c'è antibiotico resistente da fare l'antibiogramma e valutare principalmente se ci sono alternative usare altri antibiotici poi in base alla sede le I.V.U. sono classificate come dicevamo prima incistite, pieronefrite e batteriuria e in base alla patogenesi possono essere complicate o non complicate qui di nuovo diciamo avevo riscritto la parte degli esami però ricordiamo che si fanno l'esame delle urine più l'urinocultura poi per quello che c'è scritto è praticamente la stessa cosa che abbiamo detto prima altri esami però importanti sono la puntura sovrapubbica la bustina adesiva il catetere uretrale la puntura sovrapubbica tra questi esami rappresenta il gold standard con una ridotta probabilità di contaminazione è comunque invasiva e può avere un insurcesso del 30% se la vescica è vuota o fisiologicamente stabile e tra le complicanze abbiamo una fistola della parete addominale mentre la bustina adesiva è più semplice si possono educare i genitori al posizionamento con una sensibilità quindi del 100% e una specificità del 70% c'è un elevato rischio di contaminazione rispetto anche alla puntura e va sostituito ogni 20 minuti il catetere uretrale invece ha una sensibilità del 95% c'è una specificità del 99% e anche in questo caso c'è un aumento del rischio di infezioni iatrogene delle viurinari ovviamente gli obiettivi sono soprattutto ricercare il meccanismo di danno valutare il rapporto che c'è tra il germe e l'ospite e ottimizzare la terapia quindi utilizzare gli antibiotici ci sono vari fattori che dobbiamo valutare innanzitutto l'età e il sesso come vedete nel neonato si manifesta per lo più nei maschi nella prima infanzia e nelle femmine e anche nella seconda infanzia poi la colonizzazione batterica può essere fecale per il retrato o per il fuziale nei circoncisi per esempio la pulizia è più facile oppure possiamo avere le nefimosi sovra infezioni e ballano postiti che possono esitare in infezioni delle viurinari basse poi la stipsia anche correlata al fatto che il retto si distende in seguito alla stipsi quindi comprime la vescica riducendo lo svuotamento avremo un'ostruzione del collo vescicale una distensione dell'uretra tiscinesia della parete muscolare e anche un aumento del residuo post-minzionale sopra il 10% quando normalmente dovrebbe essere sotto poi abbiamo anche dei fattori genetici per esempio il gruppo AB alcuni fenotipi il tipo B più 1 HLA3 e variabilità del locus del cromosoma 4 per quanto riguarda invece i fattori immunologici possono essere sistemici o locali sistemici perché il sistema immunitario del neonato può essere immaturo c'è un deficit di IgA segretorie Iper-IgE quindi con cistite bollosa mentre per quanto riguarda quelli locali principalmente abbiamo la carenza dei glicosaminoglicani perché questi sono presenti nell'epiterio della vescica e fungono da supporto anche strutturale e la proteina di Tamorsfal che è una proteina che è presente in tutte le urine anche in condizioni di normalità deve essere presente in certi quantitativi se è carente allora ci può essere un'anomalia che causa quindi anche la predisposizione all'infezione delle viurinarie per quanto riguarda altre anomalie sono soprattutto di tipo anatomico per esempio possiamo avere il rene a ferro di cavallo che crea uno scorretto deflusso dell'urina verso l'uretere la displasia renale l'ectopia renale e in questo caso nell'ectopia abbiamo un alterato decorso ureterale quindi l'uretere non è anatomicamente diciamo corretto e quindi è difficile lo svuotamento poi abbiamo reflusso vescico-uretrale ureterale stenosi uretrali quindi uretero vescicali pielureterali orta compasso schiacciamento dell'uretra e poi abbiamo il megauretere primitivo e le valvole uretrali posteriori che ne viscono lo svuotamento quando si contrae il detrusore poi possiamo avere altre alterazioni detrusso-sfinteriali come per esempio l'enuresi o la vescica operativa l'incoordinazione dello sfintere e detrusore quindi il detrusore magari si attiva e lo sfintere non si rilascia correttamente è stato visto anche che è correlato per esempio a vesciuga neurologica o non poi circa metà dei pazienti con alterazioni detrusso-sfinteriali possono avere le infezioni delle fiorinarie due terzi dei pazienti con reflusso vescico-redrale e infezione delle fiorinarie possono avere dei disturbi inizionali inoltre in questi pazienti possiamo avere un aumento transitorio della pressione vescicale con ischemia della mucosa e quindi maggiore rischio di infezione batterica e ci sono anche oppure possiamo avere disturbi della motilità piel-ureterali e ureterali per quanto riguarda anche per esempio altri sintomi che possono essere correlati agli abusi o alle violenze come enuresi sintomi diurni e poi troveremo ovviamente IV e depressione bulimia anoressia dolore addominali ricorrenti una cosa importante è soprattutto fare una diagnosi o meglio fare una differenza tra fattori protettivi e predisponenti nei fattori protettivi possiamo avere un efflusso urinario non ostruito il flusso dell'urino in urina direzionale l'urotelio una corretta attività antimicrobica con la presenza corretta di glicoproteine oppure possiamo avere uno svuotamento corretto della conformazione della regione perineale corretta invece nelle IV possiamo riscontrare un espessimento vedete anche nella figura insomma perché sostanzialmente il paziente che è predisposto all'IV può avere un edema mucosale e un'alterazione del detrusore i fattori predisponenti sono l'urolitiasi reflusso vescico-rederale reflusso intra-renale ostruzione come la orta cavaliere difetto della difesa dell'urotelio anomalie dello svuotamento neurogena o infiammazione cronica diverticoli vescicali e colonizzazioni di batteri locali per quanto riguarda l'eziologia può essere soprattutto batterica poi può essere anche virale del nuovirus con macromaturia micotica o altri patogeni le vite infezioni possono essere ascendenti anti-oematiche dando setticemia e batteriemia in particolare per quanto riguarda le infezioni virunali abbiamo le scheriche coliche presenta un antigene OIK e ci sono diversi serotipi per esempio l'O157 causa la sindrome amolitico-uremica produce tossine resiste a sostanze battericite del siero aderisce all'urotelio tra gli altri patogeni possiamo avere per esempio il proteus soprattutto nei maschi il club cella neonati oppure citrobatteri serrazia saprofiti nelle femminità prepuberali o stretto cocco fecale diciamo l'azione di questi batteri soprattutto è il fatto che possono essere antibiotico-resistenti e inoltre producono emolisine ed endotossine in particolare le endotossine possono essere lipide A sulla superficie mucosale quindi dando una flocosi distruggendo la membrana basale abbiamo anche delle lectine delle adesine quindi che in base al tipo di fibre diverse hanno diversa patogenicità il tipo 1 hanno un minor rischio di infezione quindi aderiscono meno all'urotelio e sono più sensibili al sistema immunitario quelli tipo 2 invece sono codificati da geni questi geni PAP sono trasdotti da un batterio all'altro e fanno sì sostanzialmente che dei batteri che sono normalmente non patogeni lo diventino diventano patogeni infine dal punto di vista fisiopatologico la schierica coli agisce con un danno diretto locale e alterando meccanismi di difesa dell'organismo quindi aumentano localmente aumentano la produzione dell'emolisina la risposta infiammatoria sarà dannosa per il tassuto ci sarà la liberazione di radicali liberi e danno tissutale mentre inibiscono i meccanismi di difesa tramite il legame dei batteri alla superficie roteliale liberando endotossine inibendo la peristalsia della muscolatura liscia dell'uretere e aumentando la versione luminale e pielica trattamento di prima scelta prevede l'utilizzo degli antibiotici attenzione soprattutto a non provocare antibiotico resistenza e poi ci sono delle terapie di supporto è importante soprattutto utilizzare l'integratore al mirtillo rosso perché questi hanno un'azione protettiva contro l'adesione dei batteri al loro telio oppure nei pazienti con stipsi si possono dare fermenti lattici perché riducono la virulenza batterica nella flora e anche garantiscono una corretta colonizzazione dell'intestino evitando il trasferimento dei patogeni a livello delle vie urinarie